Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Io Giovanni vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere e la terra fu illuminata dal suo splendore gridò a gran voce è caduta è caduta Babilonia la grande ed è diventata covo di demoni rifugio di ogni spirito impuro rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e orrenda un angelo possente prese a loro una pietra grande come una macina e la gettò nel mare esclamando con questa violenza sarà distrutta Babilonia la grande città e nessuno più la troverà il suono dei musicisti dei suonatori di cetra di flauto e di tromba non si udrà più in te ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te il rumore della macina non si udrà più in te la luce della lampada non brillerà più in te la voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte dopo questo udì come una voce potente di folla immensa nel cielo e di una voce potente che diceva alleluia salvezza gloria e potenza sono nel nostro Dio perché veri e giusti sono i suoi giudizi egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione vendicando su di lei il sangue dei suoi servi e per la seconda volta dissero alleluia il suo fumo sale nei secoli dei secoli allora l'angelo mi disse scrivi beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello al banchetto di nozze dell'agnello acclamate il Signore e il suo pascolo beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello varcate le sue porte con inni di grazie i suoi atri con canti di lode lodatelo benedite il suo nome beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello perché buono è il Signore il suo amore è per sempre la sua fedeltà di generazione in generazione beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello dal Vangelo secondo Luca in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti allora sappiate che la sua devastazione è vicina allora coloro che si trovano nella Giudea fugano verso i monti coloro che sono dentro la città se ne allontanino e quelli che stanno in campagna non tornino in città quelli infatti saranno giorni di vendetta affinché tutto ciò che è stato scritto si compia in quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti vi saranno segni nel sole nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria quando cominceranno ad accadere queste cose risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina grazie a tutti